ci troviamo con tommaso giacomel siamo in quel di passo della zè fuori dalla peccaferra ad uno della nazionale azzurra tommaso questa mattina insomma andrea zattoni vi ha fatto lavorare parecchio sì sì fa parte del periodo di preparazione ovviamente lavorare molto duro è stata un'altra dura un'altra dura mattinata di lavoro sì come è stato ritrovare anche in questo periodo insomma dopo una piccola pausa ritrovare anche la carabina tornare a sparare ma molto molto tranquillo devo dire all'inizio abbiamo lavorato abbastanza abbastanza tranquillamente senza metterci troppo troppo stress addosso alla fine abbiamo ancora abbiamo ancora tanto tempo ovviamente non abbiamo da perdere però cerchiamo di fare le cose con calma senza stressarci troppo un'impressione che ho avuto seguendo oggi il vostro allenamento è quello di un gruppo molto affiatato cioè al di là del lavorate seriamente bene impegnati e tutto però anche quel sorriso tra voi si vede anche un bel rapporto sia tra voi sia con Dorotea sì devo dire che andiamo andiamo tutti molto d'accordo tra noi quattro maschi siamo siamo molto amici e poi anche con Doro ormai il rapporto è abbastanza abbastanza stretto quindi devo dire che siamo un bel gruppo quanto è importante anche la presenza di Dorotea all'interno di questo gruppo già detto mille volte che è molto importante perché ci sprona parecchio a volte siamo venuti a spronare lei però sì è molto importante avere una ragazza anzi una donna così così forte in squadra che ci fa cioè comunque ci fa crescere su quattro maschi di questo gruppo due sono trentini l'avresti mai detto un giorno che sei stato in squadra A con in due trentini ma sinceramente non ci avevo mai mai pensato però credo che alla fine conta il lavoro non conta tanto la geografia da dove gli atleti vengono se gli atleti si impegnano possono arrivare in squadra questo vale per chiunque se ti stai lavorando su qualcosa in particolare per la prossima stagione qualcosa che vuoi migliorare e se poi c'è anche qualche qualche novità ma in realtà no cioè devo migliorare un po' nel un po' nel tiro a terra un po' nella gestione delle gare in questo periodo ci stiamo concentrando parecchio sulla capacità aerobica e per il resto no al momento no poi magari più avanti fisseremo degli altri obiettivi vediamo e che cosa secondo te devi migliorare invece proprio per riuscire con maggior continuità a essere lì dove sappiamo vuoi trovarti sempre? è dura perché bisogna mettere insieme sempre tutti i pezzi e bisognerebbe fare ogni gara in modo perfetto per ottenere un super risultato però purtroppo non è possibile come ho già detto io devo cercare di migliorare un po' nel tiro a terra e nella gestione delle situazioni quando si spara in piedi perché alla fine è là che si decide la gara e poi chiaramente bisogna sempre migliorare anche sul piano fisico e tecnico quanto è motivante però affrontare delle gare di Coppa del Mondo dove ci sono fenomeni come Giannis Bo campioni che come quelli che vediamo anche qui come Samuelsson comunque lo stesso è un siluomo ecco quanto è motivante voler migliorare per arrivare lì a lottare con loro? tantissimo perché li vedi e li vuoi battere quindi è un enorme fonte di motivazione